Convenuti a Roma per la venticinquesima assemblea plenaria del Di Castero, con il cuore colmo di gratitudine per il dono di questa udienza, le porgono i sensi del loro affetto e della loro filiale devozione. Sono lieto di incontrare tutti voi, membri e consultori del Pontificio Consiglio per i Laici, riuniti per la venticinquesima assemblea plenaria. Saluto in modo particolare il Cardinale Stanisio Afroevko e lo ringrazio per le cortesi parole che mi ha rivolto, come pure Mons. Joseph Klemens, segretario. I'd like to be a doctor. I'd like to be a lawyer in future. I'd like to be a lawyer in future. Grazie a tutti.